A seguire sul Tatami 1, Giorgio Buschi, Futura Sport, Contatto, Angelo Casale, Rio Grappi in club. Tatami 3, Viola Adult Master più 100,5 kg, si preparano al peso Wesley Lopez Cainzeta, Core Grappi in club, Nicolo Orlandi, Juan Neves Pigeje. Metti il braccio in mezzo, Giordano, metti il braccio in mezzo, Giordano, metti il braccio in mezzo, abbraccia la gamba alta che ti dà l'angolo, si trammolano, dai Giordi, cerca di uscire, bravo, la mano, un braccio in mezzo, abbraccia la gamba, dà l'angolo, che ti dà l'angolo. Al peso, Malpelli Davide, Core Grappi in club, Massimiliano Lacroce, Brasa Varese, Ivano Lotito, metti la gamba, a seguire sul Tatami 2, Massimo Fiorettino.